Salve, sono Elisa Di Salvatore del giornale online Giulia Giornaliste, l'associazione delle giornaliste indipendenti autonome nazionali. Bene, io ho riscontrato ancora una volta che tutti i colleghi che mi hanno preceduto tendono a spersonalizzare questa candidata, cioè dire, fanno le domande della politica assolutamente neutra. Allora, dal momento che invece la sua presenza a queste primarie è il fatto di essere una donna e un quid in più, io credo che anche i temi che vengono in genere riferiti alle sole donne debbano invece essere messe nel novero complessivo della politica che vuole attuare, ma anche della diversità di punto di vista che lei quanto donna può portare alla politica. E quindi la domanda riguarda un aspetto che magari gli altri tenderanno a definire tipicamente politico, cioè in mezzo a tante emergenze ce n'è una in questo periodo che è quella della violenza, del femminicidio contro le donne che ha fatto segnare, secondo dati, 100-110 donne uccise in questo periodo. È un'emergenza, non si sa se è tutta italiana, è un'emergenza comunque di questo periodo. Le donne italiane, anche perché il nostro paese è stato molto bacchettato dal Sidao, tant'è che le associazioni italiane e femministe che da tempo si impegnano sul territorio in questi centri di antiviolenza hanno stilato un rapporto ombra che hanno presentato l'anno scorso all'ONU perché il governo e i ministri deputati non erano stati molto solerti. Comunque adesso per affrontare questo problema perché i dati sono veramente preoccupanti hanno elaborato una convenzione che si chiama No More, la violenza No More Femminicidio, che è un piano, un progetto politico di intervento ad ampissimo respiro, che va chiaramente al finanziamento di centri di antiviolenza, all'intervento dell'informazione perché la stessa informazione in mass media trattano il femminicidio sempre con dei termini che tendono ad assolvere chi è colpevole. Allora vorrei sapere da lei su questo tema se ha intenzione di assumerlo fra le priorità del suo programma. Grazie. La situazione delle donne in Italia credo che sia un sensore, purtroppo, del livello di degrado che questo Paese sta avendo ed è una progressione in negativo. È una progressione in negativo che ha tante ragioni, però ci sono degli aspetti che io credo valgano la pena, valga la pena di esprimere, di affrontare. In fondo il nostro Paese ha dato il voto alle donne nel 1948, era poco più di ieri, sono 65 anni scarsi. Credo sia significativo, visto che parliamo della Turchia che ce l'ha dal 1936, per esempio, come di un Paese che non vogliamo in Europa perché ci pare ancora troppo arretrata. Ed è significativo perché fino al 1981 noi abbiamo avuto derubricato un delitto, che è il delitto d'onore, in cui sostanzialmente si era autorizzati ad uccidere la sorella, la madre, la figlia, non traendone sostanzialmente quasi nessun danno. Da tre a sei anni, spesso erano tre, e quindi con i tre anni, voi sapete, si fanno ben pochi mesi di carcere. Questo ha a che fare con la nostra storia. E la nostra storia ci dice appunto in quegli indicatori che sono dati statistici ma che fotografano in maniera terribile una realtà, come il lavoro appunto non sia patrimonio delle donne, l'amministrazione pubblica non sia patrimonio delle donne, la rappresentanza politica non sia patrimonio delle donne. Cioè non c'è, non c'è e non possiamo negarlo, una effettiva parità in questo Paese. Perché dico questo? Perché la violenza è certamente ancora, stavamo osservando l'altro giorno come i dati attengano per esempio a regioni del nord piuttosto che del sud, la violenza sia ancora un elemento che ci deve far comprendere come effettivamente laddove la parità sia fortemente voluta ci siano forti resistenze. Non c'è ancora un sentimento forte, un sentire completo nella parte maschile di questo Paese della necessità di vivere insieme in maniera complementare e di percepire l'utilità di un ruolo femminile che sia in grado con la sua visione di mondo per esempio di riuscire a guardare anche altro, a leggere la società, la storia. E quindi io credo che qua tutto quello che possiamo e fare, in questo senso mi sento di dirti che sto sottoscrivendo quella convenzione, che è una convenzione che va oltre Istanbul, che punta alla prevenzione, che punta all'informazione, che punta a dare informazione scolastica, a cominciare dai più piccoli e quindi ad iniziare questo percorso al fine di evitare che fatti di questa gravità si ripetano in percentuale così alta e in maniera sistemica. Grazie.